Adesso c'è un uomo che parla poco, dice due cose, ma quelle due cose che dice le dice in maniera chiara. Castrizio Vergeri! No, 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 non mi interessa, no, 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 Ignazio! Non mi scelegna! Non fa, non fa, non dico una parola, non mi interessa! No come, no uomo, no crae, no martini, no pa, e no parti, e parti una volta a volta! Fatti una settimana di relax, fatti una crociera, aio! E dai, ma ti ricordi quando dicevano, quanto è bello far l'amore da tre, sta in giù, quanto è bello far l'amore, io sono prontetto, ma tabolinai! Non ci sono più le donne di una volta, la tecnologia le sta rovinando! L'altro giorno ho fermato uno e gli ho detto, scusa me la dai, lei no, però la masterizzo! Ma tabolinai, ma sai che cosa, sono cose che fanno male, lo vuoi capire, bisogna riaprire le case, l'uomo si deve sfogare! Ma dove siamo? All'imbalza! C'è bisogno dello spurgo! Ma che spurgo? Che cosa? Ma se c'è? C'è bisogno dello spurgo della specie, l'ha detto Darby, l'ha detto, guardami negli occhi, dimmi la verità, ma è nato prima l'uomo o la melacotonia? Allora, ma che cosa non lo sai, allora? Ma che cosa non lo sai, ma che cosa mi sei sennare? O mi può rispondi se a sparire con un saligusta, o l'usco col brusco, o il busto con l'arsizio, o mi sei sennare? Ma che cosa stai dicendo tu, io sono qui per il sondaggio, voglio votare, sono favorevole! Ma che sondaggio? Sì, ma ti ricordi da piccolino, ti ricordi Mazinga, ti ricordi Golde, ti ricordi Gigi, roba d'acciaio, ti ricordi? Guarda che la mamma Golde, ogni mattina gli diceva, ricomponiti, non puoi capire? Ma la sua mi perderà io! Ma che cosa? Ma che cosa? Se non ci sono... Fammi parlare! Se non ci sono le donne di una volta, c'è oggi, c'è l'uomo di una volta, una volta è basta, è cinque minuti, lo vuoi capire? Ma te mi sei sennarendio, ma francamente, 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 francamente è una vaulancia, francamente è bugiato, non puoi capire? Ma che ne è? Ma scusa, ma calma Rima, perché sei così nervoso, eh? Ma perché sei così? Forse perché sei più basso di Brunetta, e allora? Non è vero se è più basso di Brunetta, no. Ma parla, parla di qualcosa, espulichi i sentimenti, sei troppo stroverso, lo vuoi capire? Parla di qualcosa, fammi parlare, vero? E allora, non interrompermi, io non ti interrompo, prima ho parlato io, ora ho ascoltato tu, lo vuoi capire? Allora, se non parlo mi sento frustrato, mi sento... Frustrato, sì. Sì signora, ho fruttato, ma che cosa è? Siamo attraversando periodi bui, donne bui, dei paesi tuoi, lo vuoi capire? Ma la società è malata, lo vuoi capire? Ma che cosa è? Ci mancano! Dove sono? Ce le hanno portate via, le vogliamo! Le so nelle leciso, dove sono? Ma non lo so! Ma che cosa non lo so? Ma sei strano! Ma ci sei o B4, eh? E allora? Ma perché? Ma perché che cosa? Ma perché? Perché c'è gente che sta facendo ore che è del mercante, e che ore che più lo dire? Udda! Castrizio, perché?